Salve a tutti ragazzi, qui è Joseph Gamer e benvenuti in questo nuovo What If. Cosa sono i What If? Sono storie inventate completamente da me ed oggi andremo a continuare insieme quella che è la storia di Goku bambino che si trasforma in Super Saiyan. L'abbiamo vista qualche giorno fa, vi lascerò il video in descrizione. Dopo la sconfitta del grande mago piccolo, ragazzi, Goku ha continuato i suoi allenamenti. Diventa sempre più potente fino ad ottenere trasformazioni anche divine. E raga, non sto scherzando, lo vedrete tra poco. Mi raccomando, pollice in su, superiamo i 5000 fottutissimi like se volete che io crei nuovi What If. Per me è molto importante che davvero lo mettiate sto like, fatelo diventare blu quel pollicione perché ragazzi, per me è fondamentale per capire se questi video vi piacciono o meno. Dai, per nuovi What If 5000 sono il minimo. Cos'è che però succede? Sembra che all'orecchio di Vegeta sia arrivata una strana voce, ovvero che sulla Terra c'è un Super Saiyan. Decide quindi di dirigersi sul pianeta e provare ad affrontare questo grande nemico ricordandosi infatti che sul pianeta Terra dovrebbe esserci un guerriero Saiyan di infimo livello. Per quale motivo non ha distrutto il pianeta? Ragazzi, ci sono tante variazioni rispetto al Dragon Ball Z e ora le andremo a vedere insieme. Prima di ciò ragazzi vi dico una cosa, attivate assolutamente le notifiche dell'app di YouTube perché ragazzi, a quanto pare negli ultimi giorni YouTube sta dando davvero tanti problemi. Attivate la campanella, quella lì che c'è sul mio canale, perché ragazzi è davvero fondamentale. Potreste perdervi tutti i nuovi What If, potreste perdervi Dragon Ball F quando arriverà in futuro, ma se attivate la campanella dovrebbe arrivarvi la notifica e siete a posto. Fatelo ragazzi, è fondamentale. Inoltre, direi di riprendere quindi quella che è la nostra storia. Cos'è che accade? Goku, nel frattempo, no? Prima che Vegeta arrivasse, ha continuato il suo incredibile allenamento. Quindi ragazzi, può ottenere una nuova trasformazione oltre a quella del Super Saiyan che vedrete adesso. Quindi ragazzi miei, oltre a poter padroneggiare già quello che è il Super Saiyan in sé, si sta dimostrando ancora più potente del solito davanti agli occhi sbigottiti di Vegeta. Ragazzi, Vegeta pensava che tutto quello che aveva sentito era una vera e propria leggenda inutile e stupida, ma a quanto pare non è così. Sta provando sulla propria pelle quello che è il vero potere di un Super Saiyan. Parliamo un po' di quello che succede in quest'universo alternativo creato al momento, no? Che è creato da me. Ragazzi, a quanto pare, ormai non esiste di già Piccolo. Infatti, nello scorso episodio abbiamo visto la morte di Al-Satan. Morendo Al-Satan senza rilasciare l'uovo, Piccolo non c'è. Inoltre, c'è anche un'altra cosa. Radish non è mai arrivato qua sulla Terra. È arrivato direttamente Vegeta. Quindi vuol dire che Goku, almeno adulto, non è morto, e che quindi non essendo morto non va da Recaio e non impara il Kaio Ken. Quindi, ragazzi, a Goku manca una tecnica fondamentale che poi, da come avete notato, abbiamo rivisto in maniera eccezionale anche in Dragon Ball Super. Vabbè, ragazzi, ora sto parlando, eh, perciò non mi sto concentrando sullo scontro. Quindi, ragazzi, già queste sono le primissime variazioni, oltre a tutte quelle che vedremo, chiaramente, anche tra poco, con le trasformazioni divine di Goku. Preparatevi. Si scontrano le due onde di energia, ma vince il cannone Galic di Vegeta, roba che non mi aspettavo per nulla, e direi di provare anche a concludere lo scontro. Vai così, lancialo via. Andiamo con una bella Kamehameha. Vai, Goku, devastalo, ma niente da fare. Allora, ragazzi miei, è proprio in questo momento che Goku deve davvero farsi valere. Allora, io non mi vado a spostare. Forza, fammi il cannone Galic, se ci riesci. Vediamo, via, via, via. Vai così. Utilizzo la mia carica potente. Vediamo se ce la facciamo. Vai, 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 ragazzi, dobbiamo essere carichi. Ecco a voi la vera furia di Goku. Aspetta, lanciamolo via. Boom! Ed ecco a voi, ragazzi, il Super Saiyan di terzo livello per Goku da bambino. Nel frattempo facciamo anche una Super Kamehameha. E, ragazzi miei, Vegeta è stato completamente distrutto. Come è successo, ragazzi, che Goku sia diventato un Super Saiyan di terzo livello da bambino? Magari qualcuno di voi potrebbe pensare che Vegeta doveva essere bambino come Goku. Però vi ricordo che Vegeta è un bel po' più grande rispetto a Goku. E già da anni ormai stava viaggiando insieme a Nappa per l'universo. A questo punto succede qualcosa di inaspettato. Durante lo scontro tra Goku e Vegeta viene sprigionato un potere ineguagliabile. E ciò farà in modo tale da andare a risvegliare delle divinità sopite. Ebbene sì, ragazzi, forse avete già capito di chi sto parlando. Quindi mi vado a scegliere lui e andiamo a affrontare un grandissimo combattente. E sto parlando del dio della distruzione, Bills. Infatti lui fa di già un sogno che è quello del Super Saiyan God. Ma si tratta di un Super Saiyan God bambino. Ebbene sì, l'avete già capito quello che potrebbe succedere davvero a breve. Quindi ragazzi, ci buttiamo all'interno di questo scontro davvero incredibile. E ora Bills vuole testare il vero potere di questo bambino. Cercando di capire in che modo si è riuscito ad esprimere tutta quell'energia, tutta ad un botto e così presto rispetto magari al normale Dragon Ball Z, no? Che tutti conosciamo ormai quasi alla perfezione. Allora ragazzi, c'è da dire che nonostante il Super Saiyan di terzo livello, Goku, almeno per ora, non può minimamente provare a fronteggiare il carissimo Bills. Anche perché se un Goku Super Saiyan di terzo livello adulto non può farcela, figuriamoci un bambino. Quindi ragazzi, perché questo scontro? Beh, vedrete. Ha comunque senso quello che sto facendo perché tra pochissimo un potere per Goku verrà davvero risvegliato appieno. Un potere divino che magari credo non abbiate mai visto per un Goku così piccolo. Quindi ragazzi, si va. Andiamo davvero di cattiveria? Boom! E lo lanciamo a terra. Ragazzi, durante questo scontro volevo dirvi anche una cosa fondamentale. Ieri ho pubblicato un video in compagnia di Francesca in cui andiamo a spacchettare insieme Nintendo Switch e anche altre cose come ad esempio alcune action figure dedicate a Dragon Ball. Come mai non l'avete visto? Non so se sono stati problemi di YouTube oppure il video non vi interessava. Se non l'avete visto per scelta, scrivetemi nei commenti perché forse volete vedere solo Dragon Ball sul canale? Dai, scrivetemi il motivo ci conto eh perché se siete The Very Fan dovete scrivermelo dai. Quindi ragazzuoli adesso si va un attimino di cattiveria notando comunque che Beals ragazzi si fa valere tantissimo è un nemico potente però ragazzi è a questo punto che Goku rivela il suo potere Super Saiyan di terzo livello e lui si è già avvicinato a noi. Ragazzi Beals ormai riesce sempre a farsi valere in qualunque modo. Noi proviamo col dragone a colpire vai così Goku distruggi Beals e c'è la conclusione ovviamente però ragazzi Beals si è fatto sconfiggere è ovvio che è una divinità un dio della distruzione non può essere sconfitto così. Beals e Whis decidono di prendersi cura di Goku e già da bambino di allenarlo perché può diventare una vera divinità e forse chi lo sa un giorno sono un dio della distruzione dopo un duro allenamento ecco il risultato Kid Goku Super Saiyan Blue guardatelo ragazzi spacca un botto e notate anche la coda che è blu come tra l'altro i capelli ragazzi miei per quale motivo questo Kid Goku Super Saiyan Blue non è passato per il semplice Super Saiyan God per diversi motivi diciamo che non esisteva la mod quindi io non potevo applicarla però dovendo dare una spiegazione nella storia possiamo dire che Whis e Beals hanno deciso tra virgolette di sbloccare quello che è il suo potenziale nascosto ed è un potenziale chiaramente divino quindi ragazzi andiamo qui al mondo dei Kaioshin che per noi risulterà un mondo divino che è quello lì di Beals ed ecco qui lo scontro di allenamento che ci preparerà a qualcosa di assurdo io perché ragazzi vi ricordo una cosa mamma mia quanto è figo sto Goku Super Saiyan Blue un Goku bambino potentissimo guardate anche Laura quanto spacca vabbè ragazzi stavo dicendo una cosa fondamentale io vi ricordo che di base tutto è partito dal fatto che Krillin era morto da ragazzino cioè proprio da bambino e non nella saga quella lì di Freezer quindi ragazzi qual è lo scopo di tutto ciò Goku si sta allenando per andare su Namek e recuperare le sfere del Drago questo è il suo obiettivo principale poi chiaramente l'obiettivo principale di Bills e Wiz è un altro ovvero quello di allenare un guerriero potentissimo e fargli esprimere il suo vero potere ok ma distrutte il vigore con un semplice colpo quindi ragazzi una volta che Goku viene a sapere da Bills e Wiz che appunto ci sono le sfere del Drago su sul pianeta Namek vuole dirigersi là per farlo però ha bisogno di un durissimo allenamento ed eccolo qua ragazzi io mi sto divertendo un botto a utilizzare queste mod in vostra compagnia anche perché poi questi sono personaggi assurdi allora andiamo con una bella Kamehameha di rompente dai beccalo mi ha distrutto di nuovo il vigore ragazzi Wiz è sempre spietato anche con un bambino però ragazzi dai devo dire che ci sta quindi raga vediamo se ci riusciamo io provo con una Kamehameha ad una mano provoci Goku devasta Wiz ancora no forse non avevo altra energia per riuscire a fare il colpo caricato oh mamma mia no sinforia della distruzione per me Goku devi resistere quanti schiaffi che stiamo prendendo però non mi fermo andiamo con la Kamehameha teletrasporto e becchiamo in pieno Wiz che comunque in parte si teletrasporta io provo a fare una bella carica massima dai 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 Goku devi riprenderti assolutamente vai così dobbiamo esprimere il nostro vero potere di Giada Super Saiyan God proviamo ad avvicinarci a lui forza in maniera cattiva teletrasporto vai Goku girati mannaggia non ci sono riuscito Kamehameha di rompente per allontanare l'avversario e poi vorrei provare a fargli la combo bastone del potere così da un Super Saiyan God vai 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 colpiscilo boom mamma mia guardate quanto è figo Goku in questa trasformazione quindi raga si va provo a colpirlo un altro po' per accumulare altra energia mi vado a fare una bella carica massima e lo scontro sta quasi di già per concludersi sto scontro raga è volato sul serio però ragazzi direi di andare Kamehameha ad una mano vai mio caro Goku bambino Super Saiyan God devasta devasta Weez ma niente da fare non siamo riusciti a sconfiggerlo purtroppo ragazzi l'avversario è chiaramente un angelo della distruzione ed è anche più potente di Bills quindi vuol dire che dobbiamo stare molto molto sulla difensiva ma al momento giusto anche attaccare quindi vai Goku Kamehameha ad una mano vai ma niente da fare riesce a pararsi e quindi lo scontro finisce credo in questo modo comunque ci sta chiaro che Goku anche come Super Saiyan Blue non poteva sconfiggere un angelo della distruzione o forse potrebbe chi lo sa dopo tantissimi anni di allenamenti ragazzuoli Goku diventa adulto padroneggia alla perfezione il Super Saiyan Blue ed ora è pronto per andare su una mech ottenere le sfere del drago evocare Sharon e quindi fare in modo tale da far rivivere il suo miglior amico ovvero Krillin perché questo il suo obiettivo principale oltre a diventare più forte e al suo allenamento va sul pianeta Namek e ragazzuoli addirittura c'è di già Freezer ottiene subito la potenza massima ed ecco lo scontro definitivo di Dragon Ball Z però questa volta le carte in tavola sono molto diverse Goku è di già un Super Saiyan God Super Saiyan ma Freezer resta lo stesso di Dragon Ball Z capite voi stessi che lo scontro non sussiste guardate sto Goku quanto è figo notate i capelli ragazzi questa è una mod come sempre vi ricordo che tutte quelle che vi mostro sono sempre delle mod infatti link in descrizione di Stan Gaming per acquistare la versione PC del gioco a prezzo scontatissimo ormai me lo chiedete sempre quindi io ve lo dico sempre quindi ragazzi va allora carichi al massimo perché Goku allenandosi per tanti anni ha ottenuto diversi poteri ha imparato diverse tecniche come quelle che gli imparano i diversi Kaio e tra questi sto parlando anche di Re Kaio ebbene si quindi ragazzuoli ecco a voi il Kaio Ken Super Saiyan Blue mamma mia raga carichi al massimo e vai anche con il Kaio Ken per 10 mamma mia raga prima o poi mi verrà un infarto allora è arrivato il momento di votare prima o poi a Joseph verrà un infarto votate si oppure no io credo un po' di si perché devo calmarmi un attimino io comunque vedo Freezer che insiste nonostante il nostro potere davvero devastante lui non si fa sconfiggere allora io direi subito di andare con la mia Kaio Ken per 20 e vai Goku Super Saiyan Blue no ci ha fermati non ci credo non posso davvero crederci io vado con la carica massima guardate la vita di Goku Super Saiyan God che cala allora rinunciamo un attimino al Kaio Ken purtroppo ci stava davvero uccidendo però non sarà un problema per noi teletrasporto andiamo con una bella capsula rigenerante che per noi è una capsula ma per Goku non è nulla cioè nel senso lui è così potente da poter anche in parte riuscire a assorbire tanti danni da parte di Freezer senza farsi davvero male quindi ragazzuoli prendiamo tanti schiaffi ma Goku chiaramente non fanno nulla non fanno davvero nulla queste pacche sulle spalle cioè non valgono niente per Goku e quindi ragazzi si va lo lanciamo via ed è giunto il momento ragazzi allora si va col Kaio Ken Super Saiyan Blue e questo è il primo poi andiamo anche col Kaio Ken per 10 vai Goku bene così e siamo pronti direi che siamo pronti vero Goku dai carichi come non mai siamo pronti Kamehameha Kaio Ken per 20 ci siamo vai così distruggi Freezer ma nulla si è spostato no raga non posso crederci assolutamente si è spostato vai così Goku allontanalo lo distruggiamo vai così con una bella Kamehameha devastalo ed ecco la fine di Freezer quindi ora ragazzi con questo nuovo potentissimo potere Goku riesce a trovare le sfere del drago evoca Sharon e fa rivivere il suo miglior amico Krillin tutto bene quel che finisce bene anche se Goku in questo universo parallelo è molto più forte rispetto al solito ma di parecchio mi raccomando iscrivetevi al canale per i nuovi what if che arriveranno a breve attivate la campanella per le notifiche di youtube e guardate nuovi video presenti sul mio canale cliccando sulle miniature quindi alla prossima ciao